Nei primi decenni del Novecento una donna, Giulia Civita Franceschi, fece un esperimento educativo d'avanguardia a una scuola a bordo di una nave militare per i ragazzi dei quartieri più poveri di Napoli. Uno spettacolo teatrale ora racconta la sua storia e ce ne parla Francesca Pietrobelli. Una storia poco nota, quella della nave Asilo Caracciolo, la corvetta della marina militare donata nel 1911 alla città di Napoli per accogliere gli orfani, dei marittimi e i bambini abbandonati. Fu grazie al genio educativo e alla personale dedizione di Giulia Civita Franceschi che la nave divenne qualcosa di più grande, quasi una madre dal ricordo insopprimibile. La guida della Caracciolo le fu affidata solo per delega in quanto donna, ma Giulia Civita fu lucida e moderna, conoscitrice delle più avanzate teorie educative del tempo. Sicuramente conosceva Maria Montessori e lei elabora un metodo, un metodo che rimette al centro il ragazzo, su questa nave tutti dovevano partecipare al lavoro, secondo le proprie possibilità, i più grandi insegnavano i più piccoli, non c'erano né premi né castighi, era una casa. Testimonianza dell'esperienza sono le fotografie scattate dalla stessa Giulia custodite presso il Museo del Mare di Napoli. I bambini salivano sulla nave con gli sguardi smarriti, logori e pieni di pidocchi e rifiorivano come individui restituiti alla loro dignità. In 15 anni la nave asilo accolse circa 750 ragazzi, ma l'esperimento fu brutalmente soppresso nel 1928 dal fascismo e i bambini inseriti nel sistema educativo totalizzante dell'opera Balilla. Grazie.